Un'aggressione di mattina presso la pineta di Montesilvano, due vigili medicati al pronto soccorso e il resoconto di una domenica d'agosto nella quale una chiamata al 118 si è trasformata in un caso di cronaca. Un uomo in stato di ebrezza è stato identificato, portato in caserma dai carabinieri e denunciato a piede libero per violenza e resistenza pubblico ufficiale. Grazie a Dio non sono stati riportati grossi danni fisici per i due operatori di polizia municipale, io li ringrazio per l'impegno profuso, l'abnegazione ma soprattutto per aver bloccato questo individuo che aveva già malmenato il personale del 118 che era intervenuto e ringrazio anche i carabinieri che insieme alle altre forze di polizia continuano a mantenere alta la tensione per quanto riguarda il controllo del territorio. È un territorio molto vasto su cui ovviamente noi cerchiamo di intensificare nel migliore dei modi i controlli però in questo periodo ci sono davvero tanti turisti e questi controlli è difficile anche espletarli.